Aumentano le presenze turistiche in provincia di Arezzo nei mesi da gennaio a settembre, i dati appunto dei primi nove mesi che sono comunque quelli fondamentali perché comprendono anche i dati estivi in controtendenza rispetto ai dati che arrivano dalla regione toscana. Ascoltiamo dall'assessore provinciale al turismo Rita Mezzetti Panozzi proprio i dati numerici. Abbiamo avuto un indice di presenze elevatissimo, un milione e cinquantamila presenze nel nostro territorio, nelle nostre strutture e che significa un più 10%, questo dato anche è ulteriormente positivo sia per la crisi che c'è e che ha colpito ovunque anche il settore turistico, quindi un più 10 è un dato molto positivo ma lo è anche perché in questi ultimi quattro anni il nostro territorio non ha mai registrato, io ovviamente parlo di un dato provinciale complessivo, non ha mai segnato il segno meno. Quindi abbiamo sempre avuto un dato positivo, anche se un più 1, un più 2 e così, quindi questo più 10 è un dato veramente grande. Relativamente agli arrivi è un segno positivo molto alto, un 6,6. Con l'indice di permanenza questo è molto importante perché andiamo in controtendenza con tutto il resto delle altre province della regione toscana, perché appunto mentre l'indice di permanenza, si sa ovviamente questo è il frutto della crisi, è diminuito ovunque, noi siamo saliti a un 3,21, quindi vuol dire che più di tre notti in generale i turisti rimangono nel nostro territorio, quindi completamente in controtendenza rispetto al resto della Toscana. Sempre rispetto al resto della Toscana abbiamo un altro indice importante, ovunque è stato registrato il calo degli italiani e l'aumento dei turisti stranieri. In provincia di Arezzo l'emorragia si è fermata, abbiamo una leggerissima flessione, però in generale gli italiani sono venuti nel nostro territorio e poi ovviamente l'aumento degli stranieri, come nel resto della Toscana. Devo dire i meriti di tutta che va dato ovviamente ai territori in generale e vorrei darle sia alle associazioni di categoria, a tutte le imprese, perché comunque è migliorata l'offerta ricettiva nel nostro territorio a livello qualitativo, è migliorata e quindi questo ha fatto sì che fosse scelta anche come meta per continuare a rimanere. E poi il ruolo della cultura, perché comunque sia sono aumentati moltissimo, io cito per esempio il caso della Valtiberina dove le strutture museali nel complesso hanno incrementato del 50%, ovvero 20.000 ingressi in più. Quindi questo a dire che comunque la cultura è il traino principale. Cappella Bacci, sempre in riferimento a questo collegamento con la Valtiberina per il progetto Piccoli e Grandi Musei, ha incrementato del 20% le proprie presenze. Quindi ci sono state per esempio queste operazioni culturali molto grosse nel nostro territorio che aveva interessato Piccoli e Grandi Musei con la Fondazione Entecasse, la provincia, la Valdichiana che appunto quest'anno ha fatto registrare un più 12, quindi un effetto di un lavoro fatto nel passato e la Valtiberina che appunto a livello culturale comunque ha fatto registrare questi dati molto significativi. significativi anche i dati del Valdarno, molto significativi i dati comunque di Arezzo che ha registrato relativamente alle presenze un più 20. Cortona continua ad andare bene perché ha circa un più 3%, però consideriamo che Cortona negli anni ha sempre avuto indici molto alti e Cortona ha innalzato direi in maniera importante l'indice di permanenza che si aggira intorno al 4%. Quindi complessivamente ecco dobbiamo dire, poi certo ripeto ci sono stati anche nelle vallate purtroppo dei segni negativi ma dovuti alle condizioni del tempo. Noi sappiamo che il nostro territorio questo è, abbiamo un Casentino e una Valtiberina che sono praticamente contraddistinte per il loro, per il paesaggio e per la natura in genere quindi venivano scelte come meta per camminare eccetera. È chiaro che abbiamo avuto l'anno più piovoso negli ultimi 200 anni quindi questo come dire era tutto calcolato però nel complesso.